Dò la parola alla professoressa Dora Marucco, docente presso l'Università di Torino. Ringrazio molto per l'invito che mi è stato rivolto di partecipare a questa apertura del ciclo di conferenze. L'invito che ho accolto con un senso di gratitudine per l'apprezzamento che ho maturato nell'anno scorso frequentando l'archivio della compagnia e l'apprezzamento per l'archivio, per la possibilità di accesso eccetera e per la competenza delle persone che ci lavorano intorno. Ecco, uno degli aspetti più importanti da segnalare di questa, dell'importante acquisizione documentaria avvenuta appunto, cioè che viene presentata oggi, e come già ha detto anche il dottor Robotti poco fa, è la possibilità per lo studioso di accedere a documenti recentissimi. Ecco, vorrei soffermarmi un momento su questa decisione che è stata presa appunto di rendere consultabili i documenti fino al 1991. Secondo me non costituisce questo un gesto di magnanimità o di disinteresse nei confronti della tutela del patrimonio documentario da parte della compagnia, ma il segno di una grande apertura nei confronti di un, diciamo, di un orientamento della storiografia, cioè la storia attuale, cioè la storia del periodo in cui noi siamo immersi. Cioè quel tipo di storia che sembrava impossibile a farsi fino a qualche tempo fa, era adesso praticata con pieno rispetto della scientificità, grazie a alcuni fattori di ordine diverso, cioè da un lato la ricchezza e la varietà della tipologia delle fonti documentarie che permettono dei confronti e degli intrecci tra loro in modo da verificarne la veridicità. E dall'altra, e questo è un punto che a me sta molto a cuore, ma non mi soffermo perché ci porterebbe lontano, la nuova concezione delle coordinate spazio-temporali che è venuta imponendosi in anni recenti. Spazio e tempo, nella percezione di oggi, sono infatti assai diversi da spazio e tempo nella percezione di alcuni anni fa. Per richiamare soltanto un'esperienza che ci riguarda tutti, pensiamo alla locuzione che adoperiamo, perché è corrente, in tempo reale, che corrisponde alla contemporaneità, se posso usare questo tipo di espressione, di pensiero e azioni. E quindi c'è certamente anche, direi, un'apertura concettuale nella decisione da parte della compagnia di rendere accessibile l'archivio fino al 1991, le carte fino al 1991. E adesso verrei all'archivio e al nuovo fondo archivistico messo a disposizione degli utenti. Come tutti sappiamo, buona parte della storia di Torino, ma anche quella di tutto il nostro paese, passa attraverso l'Istituto Bancario San Paolo. E ciò non soltanto per la rilevanza dell'Istituto e della sua storia, ma anche per la personalità di coloro che l'hanno diretta, per le strategie elaborate per far partecipare da protagonista nelle principali iniziative che hanno riguardato sia il territorio piemontese, sia l'intera realtà, almeno nazionale. Ecco, parlando delle carte della Segreteria Generale, che è quella che ci interessa oggi, farò riferimento a ciò che è più vicino ai miei interessi di ricerca e alla conoscenza per pratica diretta di alcuni settori di questo archivio. Innanzitutto c'è il versante istituzionale, cioè come si possono, cioè che cosa serve, che cosa ci trova lo storico, che lavoro può fare lo studioso sulle carte che ci sono. Molto è già stato detto, ovviamente, io aggiungo il mio pezzettino di esperienza. Ovviamente c'è il versante istituzionale, che si ricostruisce attraverso gli statuti, che si ricostruisce attraverso l'analisi degli organi direttivi, la loro composizione e le loro funzioni, avendo cura di verificare le modifiche e perché subite nel corso del tempo, gli ordini del giorno, i verbali delle sedute ordinarie e segrete del Consiglio di Amministrazione, che adesso sono consultabili anche in versione digitale, dell'esecutivo e delle circolari e la corrispondenza. L'aspetto istituzionale, che è certamente uno dei punti cardine su cui può vertere la ricerca storica, è però soltanto uno degli elementi che descrivono la storia dell'istituto. Poi ci sono gli uomini, le politiche, gli obiettivi e le strategie per raggiungerli e il rapporto peculiare di azione e reazione con il contesto in cui San Paolo ha inserito. Insisto sul peculiare perché riflette gli interessi, le convinzioni, l'inventiva che gli organi anche attraverso i loro uomini esprimono rispetto allo Stato e rispetto alla società civile. E faccio l'esempio, in particolare a proposito di uomini, faccio l'esempio che è già stato fatto, ma su cui vorrei insistere ancora, delle carte di un presidente, a dire il vero, un presidente piuttosto eccezionale, quale fu Luciano Iona, perché attraverso queste carte passa, e l'ho verificato direttamente, un ventennio circa non solo della storia del San Paolo, ma della storia di Torino e del nostro paese. Iona, come sappiamo, era una figura cardine, perché era contemporaneamente professore universitario, esponente politico del Partito Liberale, amministratore pubblico del Comune e della Provincia, membro di innumerevoli consigli di gestione, di amministrazione, componente di istituzioni di vario tipo, italiano e straniere, italiane e straniere, di società culturali importanti nella vita di Torino e nella vita dell'Italia del dopoguerra, e proprio grazie a questa, cioè alla sua figura poliedrica, fece partecipare l'istituto a tutte le iniziative in cui in quel periodo, cioè nel periodo in cui lui diresse, presiedette, il San Paolo, periodo ventennio particolarmente fecondo per lo sviluppo economico e sociale della nostra società, fece partecipare appunto l'istituto a tutte le iniziative a cui diedero vita, le forze vive presenti nella città. faccio dall'Ipsoa all'Istituto di Studi Europei, al Centro di Perfezionamento Tecnico-Professionale per i Paesi Emergenti, insediato nei primi anni 60 negli edifici che avevano ospitato Italia 61, a seguito di un accordo tra il Bureau Internazionale di Trovai di Ginevra e il Governo italiano. L'archivio di Luciano Iona, integrato con le carte di altri fondi della Segreteria Generale, relativi allo stesso periodo, mi ha infatti permesso di documentare l'importante contributo fornito dall'Istituto San Paolo all'internazionalizzazione di Torino. e mi preme sottolineare ciò non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto il profilo della progettualità, dell'adesione e del supporto a programmi maturati in altre sedi. Si pensi soltanto ai trafori transalpini e alla rete autostradale ad essi connessi. E questo per quel che riguarda l'uomo, in questo caso, di grande importanza, sempre rimanendo negli uomini, è lo studio della composizione del Consiglio di Amministrazione. È importante studiare, e molto si può ricavare, dallo studio, chi sono i membri, da dove vengono, dove vanno, quale è la loro carriera e qual è il loro rapporto. Con i documenti ora messi, resi disponibili, si possono studiare i rami bassi e i rami alti dell'albero amministrativo. Nel primo caso, è possibile realizzare una sorta di biografia seriale, mirante a individuare gli standard, le costanti, le tipologie, nei diversi periodi della storia dell'Istituto. Nel secondo caso, i rami alti, le eccezioni e particolarità. Una biografia peculiare, ad esempio, è già stato citato, è quella di Francesco Rotta, che inizia la sua carriera come avventizio assunto nel 1928, entrato in ruolo a seguito di un concorso nel 1929, dimessosi nel 1942 per assumere altro ufficio. Dieci anni dopo, nel 1952, il primo maggio, non so come mai, è nominato condirettore centrale per assurgere, poi come tutti sappiamo, il ruolo di direttore generale dal 1957 al 1968. Aspetto peculiare della politica da lui svolta in seno all'Istituto è l'applicazione di criteri di organizzazione interna elaborati sulla base della sua esperienza originaria di impiegato, a cominciare dal censimento dell'attività degli uffici, che permette di costruire una mappa dettagliata dell'organizzazione interna e di padroneggiare quindi il meccanismo di funzionamento dell'intera struttura bancaria. importante non solo per la storia dell'Istituto, ma questo è già stato detto da tutte le persone che mi hanno preceduto, ma per una lettura non convenzionale della storia del nostro Paese è l'accesso ai documenti che consentono lo studio dei rapporti con il contesto politico e sociale. Il periodo fascista che fuoriesce in parte dall'ultimo versamento, dall'ultimo riordinamento, ma che è già stato documentato in precedenza, si presta particolarmente a misurare la penetrazione e i condizionamenti che il regime impone a un istituto bancario dell'entità del San Paolo, anche se tutto ciò si inquadra nel più generale controllo governativo nei confronti degli istituti di credito a partire dal 1926. È comunque interessante verificare i tentativi che vengono fatti dall'Istituto in questi primi anni, fino a certamente non oltre il 1931, quando l'Istituto diventa di diritto pubblico, tentativi che si fanno per mantenere una certa autonomia. Comunque non mi soffermo su questo aspetto perché non riguarda direttamente il periodo coperto dal nuovo avversamento. Mentre invece è possibile approfondire, analizzare la transizione dal fascismo alla democrazia attraverso le carte, ora consultabili, che rispondono alla voce CLN, Commissione di Epurazione, il cui nucleo centrale riguarda il decennio 1940-1950. Fondamentale per quella lettura a 360 gradi della storia locale e nazionale cui le carte o reinventariate danno accesso sono ovviamente i documenti relativi alla partecipazione dell'Istituto nei diversi enti. Qui si apre un campo di ricerca tutto da praticare per la storia economica in particolare per quella bancaria e imprenditoriale del commercio internazionale. Come già è stato detto un altro campo da esplorare è ovviamente quell'offerto dal fondo erogazioni di cui ecco è importante in cui è importante verificare soprattutto quali sono le politiche seguite nei diversi periodi dall'Istituto e dai suoi vertici le priorità rispetto ai bisogni ma anche alle promozioni su cui incide il contributo dell'Istituto i rapporti con le istituzioni di varia natura il peso relativo di assistenza beneficenza istruzione salute cultura arte e via discorrendo. L'esempio che è stato fatto poco fa da Diego Robotti è sufficientemente indicativo a questo proposito. io faccio l'esempio di un'istituzione di cui mi è occorso di occuparmi ossia la SIOI la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale che è un altro elemento che consente di verificare l'intervento cioè la dimensione internazionale in cui si situa l'azione del San Paolo. Ebbene il sostegno ad essa sia la sezione locale Piemonte Valle d'Aosta sia la sede centrale di Roma è ampiamente documentato per il periodo che si apre con il 1957. Ne emerge la volontà di sostenere l'impegno per un nuovo assetto della comunità internazionale fondato sul superamento del principio di sovranità e sulla cooperazione tra stati. Mi fermo qui perché mi pare che il pomeriggio sia già stato denso e ringrazio. grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.